Cominciamo con il telefonato, vediamo chi è questo. Pronto? Ciao Giuseppe, di me, di me. Ti sei dimenticato di leggere l'ultima riga dell'articolo? Sì. Quello di Repubblica del 10 dicembre, del 28 novembre. Sì, sì. Leggo? Sì. Sono in diretta? Sì. Oh, meno male. Perché a Muhammad Yunus l'Accademia di Svezia non dà il Nobel per l'economia? Perché i sacerdoti, i predicatori di quella pseudo virtù che è la carità, che tanta fama ha procurato a suor Teresa di Calcutta, Muhammad Yunus neppure lo conoscono? Punto. Bravo Giuseppe. Hai letto perfettamente. Ecco. Io però non volevo infierire. Pronto? Per non infierire, dici te? Sì, tutti pensano che io sia molto cattivo con i cattolici, invece non fanno che io non infierisco mai, fino in fondo. Qua si tratta di realtà. Eh, insomma, tutto questo... Di monastrone realtà. Sì. La miseria vista dall'altra parte. Esatto. Già. Già. La miseria sfruttata a scopi in oro. Esatto. Ecco, ecco. Si chiede addirittura Galimberti, che è l'autore dell'articolo, no? Sì, caralo Giuseppe. Eh, miei complimenti. Si chiede, ma perché non danno il Nobel per l'economia? Eh. A quell'economista che è per un fior di economista. Esatto. E c'è uno che sa... Sì. Ma chi lo conosce, dice dopo. Esatto. Ciao. Stami bene. Ciao e grazie, infinite. Ciao e felicità. Caro Giuseppe, mi hai fatto felice. Io ho letto un articolo sulla Repubblica e Giuseppe aveva letto lo stesso articolo della Repubblica e ha rimarcato la parte finale. In effetti, quando io leggo gli articoli dei giornali, io non infierisco mai i cattolici. Perché? Perché mi sembra stupido infierire. Però sono di un'infamità tale, di una porcheria, di una vigliaccata, di uno squallore, che le parole non sono sufficienti a descrivere questo. E dopo la telefonata simpaticissima di Giuseppe, andiamo avanti all'altro punto. Non andare in pensione. Cioè praticamente trasformare la vita in un reddito continuo. Dice, fino a qualche anno fa i dirigenti sognavano il buon ritiro in Costa Azzurra o la frequentizzazione assidua di Green e di Golf. Ora la musica è cambiata. La pensione è vista spesso come un terrore. Racconta Milletti, secondo il quale le alternative per chi non vuole andare in pensione e ha occupato posizioni importanti in azienda sono due. Mettersi in proprio, magari con i soldi alla liquidazione, oppure accordarsi con imprese controllate da una famiglia, dove non vige la regola dell'uscita di scena a una certa età. In realtà è necessario sempre trasformare la vita, qualunque cosa che si fa, in un reddito. A me andrebbe benissimo andare in pensione perché ho talmente tante cose culturali da fare che ho sempre da arricchirmi. Però in condizioni specialmente americane, dove la pensione può anche non arrivare, devi essere pronto anche a continuare a produrre il reddito. E devi essere sempre pronto a dimeterti. Ma pronto a dimeterti cosa significa? Significa che tu dal posto di lavoro in cui sei, devi portare via il sapere e la conoscenza. Cioè sei tu il punto centrale. Se tu lavori in un'azienda, devi fare in modo di avere la massima conoscenza, la massima abilità che questa azienda ti dà. Cioè più cose conosci e più abilità tu raggiungi, più è grande il tuo potere di essere. Perché? Perché quando tu vai via da quell'azienda, ti porti via l'abilità che hai acquisito, le conoscenze che hai acquisito. Ricordatevi sempre questo. Terzo punto, paga in contanti. Cosa vuol dire pagare in contanti? Significa non aver debiti, significa non lasciarsi dietro la bava come le lumache, significa non essere spaprazzati, significa che quello che io ho è mio. Non ho debiti con la banca, non ho fatto dei pagherò, perché in qualunque momento possono portarmi via la roba. Io sono me stesso, cioè io rappresento attorno a me il mio capitale, il mio appartamento ha il mio capitale, l'automobile ha il mio capitale. Non ho un debito da pagare con la banca, non ho un mutuo da pagare sull'appartamento. Per cui pagare in contanti, cioè comprare le cose per quello che si può avere o progettare l'acquisto in funzione di quello che si ha. Pertanto non essere dipendenti dalla banca, non essere dipendenti da avvocati, non essere dipendenti a stati giuridici. Punto quattro, non fare debiti. E questo si ricollega a quello di prima. Ancora, prima la seconda casa. Cioè, non puntare mai sulla casa grande che si vorrebbe all'inizio. Questo vale specialmente per le persone che si fanno. Cominciate a comprarvi la casa che ora siete in grado di comprarvi e dopo ve la comperate più grande. Cioè, usate passo dopo passo, costruite un po' alla volta quello che fate. Non avere l'obiettivo assoluto immediatamente. Perché se avete l'obiettivo assoluto immediatamente, domani siete fuori dall'agenda, siete senza stipendio, avete fatto un mutuo, vi sequestrano la casa, non avete più la possibilità di andare avanti. Se invece comprate la casa più piccola, anche se venite licenziati, la casa più piccola è comunque vostra e avete un punto di partenza per andare ad affrontare il mondo e trovarvi un altro lavoro. Se invece fate le cose troppo in grande, rischiate di trovare qualcuno per terra. Sei. Punto sei. Non lasciare eredità. Perché si lascia eredità? I figli crescono, gli si dà l'abilità delle mani, gli si dà il sapere, gli si dà la conoscenza, gli si dà la possibilità di costruirsi. Però tutto quello che noi abbiamo costruito nella vita ci appartiene. Se vogliamo facilitare i figli, benissimo, ma ricordate che i padroni di noi stessi siamo noi. Ai figli dobbiamo aiutarli a costruire il loro futuro, ma il futuro loro appartiene a loro, non a noi. Per cui separare, se non esiste la famiglia dei ruoli, esiste la famiglia degli individui, gli individui che stanno insieme. Se io ho un figlio, devo fare in modo che il mio figlio sia il più autonomo possibile, sia in grado di prendersi in mano la propria vita, sia in grado di costruirsi la vita come vuole lui, non dipendendo da me. Che dopo io lo aiuti, che dopo io faccio, che dopo gli lascio un altro discorso, ma non avere un imperativo di lasciargli un'eredità a tutti i costi. Cioè l'eredità gliela lascio nelle mani, gliela lascio nella testa, gliela lascio nel sapere, nella conoscenza, non in cose. Fa beneficenza. Il punto 7 sarebbe fare beneficenza. In realtà non è la beneficenza di se stessa. Dà una mano affinché gli altri stiano bene. Cioè più gente attorno hai che sta bene, è meglio stai anche tu. Pertanto datti da fare affinché quelli che ti stanno attorno stiano il meglio possibile, perché se loro stanno bene puoi star meglio anche tu. Se voi vi comprate un appartamento lussuoso, in un quartiere di poveracci o in un quartiere di zingari, sicuramente vi rompono la porta e vi sfondano. Però se quei poveracci dove voi comprate il quartiere lussuoso stanno meglio, non hanno bisogno di rompervi la porta, allora starete meglio anche voi. Pronto ancora? Radio Gamma? Sì. Buongiorno, posso parlare con la trasmissione? Sì, com'è? Sì, lei. Come? Sì. Eh, me la passa? Sono già in trasmissione. Eh, sono già in trasmissione perché io non sono... Ho la radio rotta e non sento. Sono Silvia di Vicenza. Però volevo salutare Alvisa, non c'è oggi? No, non c'è signora. Che dispiacere, che dispiacere. Devo andare avanti con la mia trasmissione però. Come? Devo andare avanti con la mia trasmissione. Vabbè, allora lo saluto. Buongiorno. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Ciao. Vabbè, andiamo avanti ancora. Investite nei fondi. I fondi comuni di investimento, specialmente in America, sono una delle forme più sicure, fra virgolette, di investimento. Equivalgono un po' ai bot, ma equivarrebbero anche un po' di più. I bot per la sicurezza che noi abbiamo in Italia, cioè nel senso che investiamo sullo Stato. Però sarebbero quelle compagnie che comprano azioni e sono garantite anche dalle banche, cercano di non investire mai tutto quanto su un solo apparato. Cioè, vabbè, ci sono azionari, vari tipi, ma non è importanza. Comunque, i fondi comuni di investimento sono fra i più sicuri. Per cui, il capitale che si investe là tenta di accrescere. Cioè, tende a crescere. Anziché, invece, speculare. Cioè, il contrario di investire sui fondi comuni di investimento è la speculazione. La speculazione, pure semplice, ti porta magari ad avere dei grossi guadagni, però ti lascia anche col culo per terra, perché magari perdi immediatamente tutto. Ancora, il nono punto. Rinegozia sui mutui. Cioè, se fai dei debiti, cerca sempre di pagare il meno interessi possibili. Cerca di fare in modo che le banche taglino gli interessi. Dice, sei tu che devi essere forte. Sei tu che devi essere in grado di andare alla banca a dirgli, tu fai questo, tu fai quello. Questo vale per la banca, ma vale per qualsiasi, vale per le assicurazioni, vale per i fondi comuni di investimento, vale per qualsiasi. Cioè, la persona che non ha debiti, non ha paura di niente, perché può cambiare banca, può cambiare fondo comuni di investimento, può fare delle operazioni diverse. Ma una persona che invece è dipendente, che è legata a delle cose, non può fare investimenti diversi. E ancora dice il decimo punto, muori povero. Cioè, chi te lo fa fa di morire da ricco? Questo non significa morire disperati, significa aversi usato tutto quello che la vita ti ha dato. Cioè, puoi tranquillamente usare tutto, perché morire da ricco è abbastanza relativo. Cioè, muori senza avere possedimenti, senza esserti fatto mancare qualcosa dalla vita, non pensare che il lavoro sia tutto. Cioè, devi lavorare in funzione di vivere, non vivere in funzione del lavorare. E questo è il decimo punto. Questi dieci punti che vanno sotto il titolo del E ora la finanza è il New Age, come gestire carriera e denaro, è una scoperta di un nuovo modo di affrontare la vita. In realtà non è altro che la riproposizione dei principi della stragoneria, chiaramente adattati a quello che è sia l'ambiente culturale americano, sia l'ambiente economico, sia l'economia, cioè sia il lavoro delle persone, ed è una riscoperta di alcuni valori della stragoneria che erano stati un pochetto dimenticati. Infatti, se voi leggete qualcosa a proposito del Giappone, vi troverete che il Giappone era grande perché gli operai adoravano l'azienda, gli operai erano dipendenti dell'azienda e nell'essere dipendenti dell'azienda perdevano l'abilità delle loro mani. Perdendo l'abilità delle loro mani non potevano cambiare azienda per avere uno stipendio migliore, ma erano legati proprio a quella funzione, a quella mansione dell'azienda, mentre più le loro mani erano abili e più potevano magari cambiare azienda e spuntare un prezzo migliore. Essere legati e condizionati a un'azienda è uccidere se stessi, è uccidere il proprio futuro, mentre invece contare e lavorare su se stessi, arricchendo se stessi di conoscenza, di consapevolezza, di abilità, è possibile vendere se stessi sul mercato, vendere la propria capacità di lavorare a condizioni migliori. E questo è un principio della stragonaria. Cos'è il principio della stragonaria? È che al centro del mondo ci siamo noi, cioè siamo noi che dobbiamo essere padroni di noi stessi e dobbiamo affrontare il mondo padrone di noi stessi. Nella misura in cui noi siamo padroni di noi stessi, affrontiamo tutto il mondo padrone di se stesso. Ve lo traduco in termini pagani. Nella misura in cui io sviluppo il Dio che ho dentro, incontro il Dio che mi circonda. Soltanto sviluppando il Dio che ho dentro posso sviluppare il Dio che mi sta attorno, gli dei che mi stanno attorno. Ma se io non sviluppo il Dio che ho dentro, attorno non sono circondato da dei, non sono circondato da nessuno. Sono circondato soltanto da oggetti inanimati, docenti inconsapevoli e io mi ritengo inviato di un qualche Dio padrone di essi. Ma se io invece sviluppo il Dio che ho dentro, incontro gli dei che mi circondano e con quelli posso costruire la vita perché la posso costruire da pari. Anche se devo rafforzarmi col sole, anche se devo confrontarmi con Pan, con Apollo, con Zeus, Giove, Platone, Osiris, Nut. Non è nessuna importanza nella grandezza dell'universo, nell'infimo insetto più piccolo. Il potere divino, l'espressione divina, l'essere Dio, lo trovo dappertutto. Questa è la stregoneria, questo è il paganesimo. E i principi che vi ho elencato della finanza New Age, questo è il titolo dell'espresso, non fanno altro che mettere in luce questo aspetto. Bene, io ho dato la fine per quello che riguarda quello che volevo dire oggi. E ringrazio chi non ha telefonato perché meno telefonate ricevo, meglio è. Perché meno telefonate ricevo, meglio è. Perché le telefonate mi rompono un pochino il discorso che sto facendo, anche se magari sono simpatiche e fanno molto piacere sentirle. E, cioè, le telefonate mi fanno bene, però non è che ci sia molto da discutere su quello che sto dicendo. Non perché sia così importante, ma perché tutto sommato è abbastanza ovvio. Anche se le telefonate fanno sempre piacere, quando non sono insulti. C'è un discorso che avevamo lasciato in pace postale l'altra volta. Credo che la domanda me l'avesse fatta la Susanna, penso, ma se sbaglio non mi picchiate. Era questo. Parlando dei bambini, degli atteggiamenti delle madri nei confronti dei bambini, lei mi aveva chiesto di precisare quelli che erano gli atti, gli atteggiamenti, il modo di fare, che apparteneva alla magia nera, alla costruzione, alla costruzione e alla dipendenza dell'individuo per separarli dagli atti che invece costruivano l'individuo. Io ci ho pensato parecchio in questa settimana a questa cosa e mi sono accorto che non è possibile dare una risposta. Perché? Non è possibile dare una risposta perché gli atti, i gesti che fanno le madri o i padri nei confronti dei figli sono dei fenomeni. Sono dei fenomeni causati dal padre e dalla madre. Cioè il generatore di quel fenomeno, il generatore di quell'atto, di quel gesto è il padre e la madre. Pertanto il fenomeno può appartenere alla magia nera o può appartenere invece alla costruzione del bambino non solo in se stesso, non solo come descrizione di se stesso ma proprio per la causa che l'ha generata cioè per il tipo di genitore, per com'è il genitore nel complessivo e non per l'atto, per il gesto specifico. Perché dico questo? Perché in Eric Fromm, avere ed essere, c'è lo stesso tentativo cioè c'è il tentativo di costruire com'è l'uomo nuovo secondo Eric Fromm allora lui praticamente ha delle condizioni ha delle condizioni che appartengono al potere di avere quello che lui chiama avere, che io non sono da... cioè è avere ma non è essere nel senso che è potere di avere però il potere di essere lui lo confonde molto con la pulsione di morte vediamo un'altra telefonata sei pronto? pronto? sì? pronto? sì? radio gamma? sì? rotta in culo figlio di puttana, stronzo, bastardo tutto qua? tutto qua? vabbè, pensavo peggio cosa dice Eric Fromm in queste cose? dice sicurezza, sentimento di identità e fiducia fondate sulla fede in ciò che si è nel proprio bisogno di rapporti, interessi, amore, solidarietà col mondo circostante anziché sul proprio desiderio di avere, di possedere, di controllare il mondo diventando così schiavo dei propri possessi cioè l'una e l'altra cosa sono apparentemente in contrapposizione ma è l'espressione dell'individuo, cioè il fenomeno che l'individuo produce che non può essere contraddetto cioè se sono state costruite delle fobie sessuali da parte dei bambini non è che con la galera o con le costrizioni o con l'elencazione possiamo evitare che i bambini abbiano le fobie sessuali la costruzione delle fobie sessuali per uscire fuori da queste è necessario un lungo processo di superamento e quando ci si riesce poi magari si riproduce riproducendo la fobia stessa riproducendo la coercizione per cui io non posso dire questa cosa è positiva o quella cosa è negativa perché le cose sono prodotte dal soggetto cioè è il soggetto che deve essere positivo o negativo è il padre e la madre che devono costruire se stessi o stanno negando loro stessi per cui io non posso dire questo è l'atteggiamento positivo e questo è negativo anche perché se io facessi una cosa del genere dovrei partire dal presupposto che il padre e la madre sono creati l'immagine e la somiglianza di Dio per cui vado da lui a dirgli tanto tu non puoi essere diverso da così ma puoi avere un atteggiamento diverso invece non è così l'atteggiamento nasce da ciò che una persona è per cui è ciò che la persona è che va messo in discussione non l'atteggiamento dopodiché io dall'atteggiamento individuo che quello è un atteggiamento da pulsione di morte individuo che quell'atteggiamento sta castrando il divenire del figlio la trasformazione del figlio ma non l'individuo solo dall'atteggiamento ma anche dal soggetto che fa quell'atteggiamento per cui elencare gli atteggiamenti diventa una pura e semplice elencazione che si può fare però nello stesso tempo si rischia anche di dare delle regole di comportamento che in realtà vanno a mascherare ciò che è un padre, ciò che è una madre e non permette di venire fuori esattamente ciò che è esattamente il suo fare, il suo desiderio, il suo modo di essere per cui è il padre e la madre che devono cambiare cioè sono i genitori che devono comprendere che il bambino non è un oggetto di possesso ma è un individuo adulto che si sta costruendo se non riescono a comprendere questo non riescono nemmeno questo non lo comprendono proprio perché loro stessi non si stanno più costruendo loro stessi ormai hanno finito di costruirsi loro stessi si pensano creati di immagine e somiglianza di un dio pazzo allora in questo stesso momento facendo questo loro distruggono il divenire del figlio perché quel divenire è distrutto in loro dopodiché nei singoli atteggiamenti, nei singoli gesti, nei singoli atti si può individuare qual è l'atteggiamento alla pulsione di morte io mi ricordo di essere passato al supermercato Panorama, credo, di Mestre vicino a una madre che stava trattando male un bambino di un anno e mezzo, due anni e gli ho detto bene, scalda i ferri e torturalo e l'ho detto con una tale vemenza che il bambino si è messo ancora a piangere mentre io stavo prendendo in giro la sua madre e i suoi atteggiamenti che erano atteggiamenti veramente folli però non è che puoi cambiare quelli che sono i suoi atteggiamenti perché i suoi atteggiamenti, il suo modo di essere è espressione di ciò che ella è del suo divenuto, delle sue trasformazioni e questo non si può elencare, questo non si può definire pertanto noi possiamo descrivere che questa cosa è più giusta di un'altra cosa ma noi dovremmo descrivere essenzialmente la fonte che genera quella cosa perché è la fonte che genera quella cosa che ci permette di sapere la direzione in cui quella cosa sta andando e questo è importantissimo pertanto, dico a Susanna, io difficilmente potrò dirti quali sono gli atteggiamenti o meno mi sentirai ogni tanto dire questo atteggiamento non va bene quest'altro fa schifo, quest'altro lo prenderei a pedate sui denti sicuramente mi sentirai dire questo però sarà sempre riferito a delle cose percepite, delle cose che ho vissuto delle cose che ho afferrato dove ciò che afferro non è semplicemente l'atto ma è una specie di insieme dalle quali estrago e strappo alcune cose pertanto io continuerò sempre, se mi senti qua e là mi sentirei sempre a dire delle cose simili però io cerco sempre di generalizzare il più possibile affinché le persone possano fare proprie le cose e ritrasmettere le cose che fanno proprie e questo per me è la cosa più importante perché altrimenti mi troverei a dare delle verità a descrivere delle cose alle quali chiederei alle persone di adeguarsi e io questo, scusate ma anche se spesso lo faccio perché spesso lo faccio, non è questo il mio compito il mio compito è quello di essere il più astratto possibile affinché le persone lo traducono nella propria soggettività le cose perché se io comincio ad elencare cose pratiche cose troppo specifiche rischio di strappare la soggettività alle persone la capacità delle persone di tradurre le cose in se stesse e da se stesse e per se stesse dopodiché so benissimo che quello che faccio io è un'infinita goccia in un oceano però devo farlo in questo modo perché questa è l'importanza della cosa se io facessi un manuale di comportamento chiunque potrebbe costruire un'apparenza su un manuale di comportamento e farsi passare per persona diversa allora non è positiva quella persona che cerca di costruire la vita ma diventa positiva quella persona che ha quell'atteggiamento in quella situazione l'altro atteggiamento nell'altra situazione l'altro atteggiamento ancora in un'altra situazione ancora e in pratica ucciderei la positività proprio perché la positività si adeguerebbe a quei comportamenti che io do e io questo non lo posso fare questo sarebbe contrario al paganesimo nonostante questo che so benissimo che è contrario al paganesimo sono costretto spesso a ricorrere a questo per definire alcuni comportamenti per definire una morale per definire un'etica per definire un insieme di cose bene, io spero di essere stato chiaro anche con l'amica Susanna quando lei mi ascolterà vabbè, magari magari quel giorno mi dirà ma tu mi hai detto questo, mi hai detto quello come tutti quanti però ricordatevi bene quello che io dico è relativo e poco importante è importante quello che dico nel momento in cui lo dico è riferito agli elementi per cui lo dico prendere quello che dico io ed estrarlo dal momento in cui lo dico dalla situazione in cui vado dicendolo si dà un significato completamente diverso a quello che dico questo è parte fondamentale del paganesimo io vi ringrazio di avermi ascoltato vi ricordo che io sono Claudio Simeoni vi do il mio indirizzo Piazzale Parmesan 8 Marghera anche per l'amico che ha insultato anzi, vi ringrazio anche dei suoi insulti perché ha chiarito esattamente qual è il suo pensiero e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte la trasmissione Magia e Stragonaria Paganesimo dove continueremo ancora con il Gesù di Nazio e l'Italia infame umana troveremo un altro capitolo ancora da andare avanti e andremo avanti con la rossina stampa grazie ancora per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19 adesso vi troverete con Carmelo che farà la sua trasmissione al posto di Mario ciao e a risentirci